La signora Lefevre era una signora di campagna, vedova, una mezza contadina infiocchettata e dai cappellini ricercati, una di quelle persone che arrotano la R e che si danno grandi aria in pubblico e che nascondono sotto un'apparenza buffa e pretenziosa un animo rozzo e volgare, così come c'erano nei guanti di seta grezza le mani gonfie e paonazze. Come serva aveva una brava e semplice contadina chiamata Rose. Le due donne abitavano in una casetta dalle Persiane Verdi, in Normandia, sul margine di una strada provinciale, nel centro della regione di Coe. Coltivavano qualche ortaggio nell'orticello davanti alla casa. Una notte qualcuno rubò una dozzina di cipolle. Appena si accorse del furtarello, Rose corse ad avvertire la padrona che scese giù in sott'abito di lana. Uno spavento, una disperazione. Avevano rubato e alla signora le febbre. C'erano quindi dei ladri nel paesotto, ladri che sarebbero potuti ritornare. Le due donne, sgomentate, contemplavano le tracce dei passi. Non facevano che discuterne, si scervellavano. Ecco, è di là che sono passati. Si sono arrampicati sul muro e poi sono saltati nell'aiola. Avevano paura per tutti i giorni futuri. Ormai, come avrebbero potuto dormire sonni tranquilli. Si sparse la notizia del furto. Arrivarono i vicini, fecero le loro constatazioni e ognuno disse la sua. Le due donne raccontavano quel che avevano notato e le loro supposizioni ad ogni nuovo avvenuto. Un contadino del vicinato dette questo consiglio. Dovreste prendere un cane. Era più che giusto. Dovevano prendere un cane, almeno per dare l'allarme. Dio mio, un cane grosso? No. Che ne farebbero di un cane grosso? C'era da rovinarsi a mantenerlo. Ma un canino. Un can, come si dice in Normandia. Un gingillino capace di abbaiare. Una volta che tutti se ne furono andati, dalle fevre discusse a lungo quest'idea del cane. A pensarci bene, c'erano mille difficoltà ed era atterrita al pensiero di dover preparare una ciotola ricolma di zuppa, dato che era una di quelle signore campagnole di razza parsimoniosa che tengono sempre in tasca qualche centesimo per dare con ostentazione l'elmosina ai mendicanti in strada e alle questue domenicali. Rose, a cui le bestie piacevano, espose le sue ragioni e le difese con astuzia. Alla fine decisero che avrebbero preso un cane, ma un cane piccolino. Si dettero da fare per trovarlo, ma disponibili ce n'erano solamente di grossi, con dei musi da divoratori di zuppe da far rabbrividire. Il droghiere di Roldville ne aveva uno piccolo piccolo, ma pretendeva due franchi come rimborso per le spese di allevamento. La signora Lefebvre dichiarò di essere disposta a mantenere un cane, ma di certo non a comprarlo. Una mattina il fornaio, che era al corrente della storia, portò nel suo barroccio una strana bestiola bionda, quasi senza zampe, con un corpiciatolo da coccodrillino, il muso da volpe e la coda a trombetta. Un vero pennacchio, lungo quanto il resto del corpo. Un cliente voleva disfarsene. La signora Lefebvre trovò che l'orrido botolo era bellissimo e poi non costava niente. Rose lo baciò e chiese come si chiamava. Il fornaio rispose Pierrot. Lo sistemarono in una vecchia cassetta di sapone e per prima cosa gli dettero da bere. Lui beve. Poi gli misero davanti un pezzo di pane rifatto. Lui mangiò. La signora Lefebvre cominciò a preoccuparsi. Quando si sarà abituato alla casa lo lasceremo libero. Troverà da mangiare in giro per il paese. Ma infatti lo lasciarono libero. Ma questo non gli impediva di avere sempre fame. Abbaiava solo per chiedere cibo. E abbaiava insistentemente. Nel giardino poteva entrare chiunque. Pierrot faceva le feste a tutti e restava del tutto silenzioso. Eppure la signora Lefebvre si era abituata a quell'animale. Gli voleva anche un po' di bene. E di tanto in tanto gli offriva qualche boccone di pane intinto nel ragù. Ma non aveva pensato per nulla alla tassa. Quando vennero a riscuoterla. Otto franchi. Otto franchi, signora. Per quello sgorbio di cagnolino che non abbaiava neppure. Per poco non venne meno dallo sbalordimento. Decisero subito che dovevano sbarazzarsi del cane. Non lo volle nessuno. Fu rifiutato da tutti in un raggio di 40 chilometri. Allora, in mancanza di altre soluzioni, decisero di fargli bucare la terra. Bucare la terra vuol dire mangiare la roccia. Quando ci si vuole sbarazzare di un cane, gli si fa bucare la terra. In mezzo a un largo pianoro dei dintorni c'è una specie di cappannuccia, o meglio un tettino di stoppie posato per terra. Segna l'ingresso alla marniera. Un gran pozzo scende dritto sottoterra per una ventina di metri e conduce alle lunghe gallerie della cava di Marna. La gente ci scende una volta all'anno, all'epoca in cui si ingrassa il terreno. Per il resto dell'anno la cava funge da cimitero dei cani condannati. Spesso, quando uno passa vicino a quel buco, sente salire urla strazianti, un abbaiare furioso e disperato, un richiamo doloroso. I cani dei cacciatori e quelli dei pastori scappano pieni di paura dalle vicinanze di quella cava risonante di gemiti. Se ci si affaccia sul buco, nesce un puzzo schifoso di putrefazione. Spaventose tragedie avvengono in quel buco. Mentre un animale può agonizzare per dieci o dodici giorni, là in fondo, nutriendosi degli immondi resti di chi l'ha preceduto, all'improvviso viene scaraventata giù un'altra bestia più grossa e certo più forte. Sono soli, affamati, con gli occhi lucenti. Si guatano, si avvicinano, esitano, ansiosi. Ma vince la fame, si assaigono, lottano furiosamente. Il più forte mangia il più debole, divorandolo mentre è ancora vivo. Appena presa la decisione di far bucare la terra a Pierrot, le donne si misero alla ricerca di un becchino. Il cantoniere, che sorvegliava la strada, domandò per il disturbo dieci soldi. Alla signora Lefevre sembrò una vera pazzia. Il garzone del vicino si contentava di cinque, ma era ancora troppo caro. Dopo che Rose aveva osservato che sarebbe stato meglio portarlo lì di persona, per non farlo maltrattare lungo la strada e non fargli capire il destino che l'aspettava, decisero di andare loro due, verso sera. Prima gli dettero una buona zuppa con un pezzetto di burro, lui se la mangiò tutta e mentre scodinzolava dalla contentezza, Rose se lo serrò nel grembiule. Andarono per la campagna con passo lungo e veloce, come due ladruncole. Arrivarono presto vicino alla marniera e quando furono lì la signora Lefevre si affacciò per sentire se c'era qualche bestia che gemeva. No, non ce n'erano. Pierrot sarebbe stato solo. Rose allora lo baciò piangendo e lo buttò nel buco, poi si chinarono tutti e due tendendo l'orecchio. In un primo momento udirono un rumore soffocato, poi il lamento acuto straziante della bestiola ferita e poi tanti guaiti di dolore, appelli disperati e suppliche di un animale implorante che chiamava col muso verso l'apertura. Guaiva, oh se guaiva! Furono assalite dal rimorso, dallo spavento, da una paura irragionevole e inspiegabile e fuggirono via di corsa. Ma Rose andava più in fretta e la signora Lefevre gridava «Aspettatemi, Rose! Aspettatemi!» Passarono una notte popolata da terribili incubi. La signora Lefevre sognò che mentre era a tavola pronta ad assaggiare la minestra, proprio quando scoperchiava la zuppiera, si trovava dentro Pierrot che si slanciava su di lei e le mordeva il naso. Si svegliò e le parve di sentirlo abbaiare. Si mise in ascolto. Si era ingannata. Si riaddormentò. Ora si trovava in mezzo a una strada enorme e camminava, camminava per quella strada che non finiva mai. D'un tratto scorgeva un gran paniere, come quello che usano i fattori, abbandonato lì. Quel paniere le incuteva spavento, ma alla fine lo apriva e Pierrot, che era rannicchiato là dentro, le mordeva la mano e non lasciava la presa. Lei allora fuggiva a sgomenta, col cane attaccato al brazzo che serrava le macelle. Si alzò all'alba, sembrava mattita, corse alla cava. Guaiva, guaiva ancora. Aveva guaito per tutta la notte. Lei si mise a singhiozzare e lo chiamò con mille nomignoli affettuosi, a cui Pierrot rispondeva con le più tenere inflessioni della sua voce canina. Allora volle rivederlo, ripromettendosi di farlo felice per tutta la sua esistenza. Corse dall'operaio addetto all'escavazione della marna e gli raccontò l'accaduto. L'uomo ascoltava senza dir niente. Quando lei ebbe finito disse «Rivolete il can? Ci vogliono quattro franchi». La donna sussultò e il dolore di colpo svanì. «Quattro franchi? Sai quanti cani debbono morire per quattro franchi?» L'uomo le rispose «E voi credete che io stia a portare corde e argano che sistemi tutti i miei arnesi e scendere giù col mio aiutante a rischio di farmi mordere dal vostro maledetto can per la soddisfazione di restituirlo a voi? Non ce lo dovevate buttare!» Lei andò via indignata. «Quattro franchi!» Appena a casa raccontò a Rose le pretese dell'operaio. Con la solita rassegnazione Rose le ripeteva «Quattro franchi sono soldi, signora!» E poi aggiunse «E se buttassimo qualcosa da mangiare a quel povero can?» «Tanto per non farlo morire così!» La signora Refevre approvò tutta contenta ed eccole di nuovo in marcia con un bel pezzo di pane imburrato. Lo buttavano giù pezzetto dopo pezzetto parlando a Pierrot un po' per una. Appena aveva ingoiato un boccone il cane guaiva per reclamarne un altro. Tornarono anche la sera e poi il giorno dopo e ogni giorno ma facevano un solo viaggio. Una mattina mentre stavano per buttare il primo boccone sentirono all'improvviso in fondo alla cava un latrato terribile. Erano i due dovevano averne buttato giù un altro un cane grosso. Rose chiamò «Pierrot!» «Pierrot guai, guai!» Cominciarono a buttargli da mangiare ma tutte le volte udivano chiaramente un grande feruglio seguito dai lamenti di Pierrot morso dall'altro cane che più forte gli mangiava tutto. Per quanto gridassero «È per te, Pierrot!» A Pierrot evidentemente non toccava un bel niente. Le due donne si guardarono sbigottite e la signora Lefevre disse agra agra «Non posso certo dar da mangiare a tutti i cani che butteranno qui dentro. Dobbiamo rinunciarci!» Atterrita dall'idea di tutti quei cani che potevano vivere a spese sue andò via e si riportò indietro anche il pane rimasto. Se lo sbocconcellò strada facendo. Rosen andava dietro e si asciugava le lacrime con la cocca del grembiule turchino. «È per te, Pierrot!» «È per te, Pierrot!» Grazie a tutti